Vedere quelle persone lì fuori davanti ai muri d'acqua che si sono viste trascinare la vita via in pochi minuti, una vita di sacrifici e quindi la disperazione delle persone che purtroppo hanno vissuto tutto questo. Elena Tanganelli è una soccorritrice della misericordia di Arezzo. La notte del 2 novembre ha raggiunto insieme al collega Lorenzo Meacci le zone alluvionate della Toscana, al seguito come sanitari del nucleo Maxi Emergenze attivato dal coordinamento regionale. Siamo addestrati, dobbiamo guardare dei protocolli ben precisi nell'emergenza urgenza, uno non può fare di testa sua. Il nostro lavoro è questo, nel senso aiutare la gente, la popolazione e nello stesso tempo deve rimanere freddo, diciamo così, perché devi fare del soccorso. Tanta amarezza per tutta la sofferenza che abbiamo visto perché noi abbiamo fatto del nostro meglio, però chiaramente anche l'impotenza di non poter aver aiutato tutte le persone che ne avevano bisogno. Altri due soccorritori, Enrico e Noemi, sono partiti assieme alla colonna di protezione civile, così le braccia e il cuore di Arezzo sono arrivati prima a Poggio a Caiano e poi nell'inferno di Campi Bisenzio. Campi Bisenzio è sondato, questa è la strada della smana. Sono state delle ore veramente dure dal punto di vista fisico, perché non abbiamo praticamente mai dormito, abbiamo pompato acqua là dove era possibile giorno e notte. è stata dura anche dal punto di vista emotivo, perché in quei giorni abbiamo visto proprio la disperazione in faccia alle persone che in due ore hanno perso completamente tutto. Tutta una vita di sacrifici, di lavoro, ricordi, foto, casa, letti, tutto quello che poteva essere bagnato dall'acqua è stato buttato via. Ci si addestra mai abbastanza per affrontare queste situazioni? No, assolutamente. Noi siamo del corso recente di protezione civile, sì, due simulazioni le abbiamo fatte, però no, fino a che non arrivi lì non te lo immagini. È vero che le simulazioni, la teoria, la pratica, c'è, ma non è mai poi come nella realtà. Si lavora improvvisando, nel senso che quando arrivi nel posto, sì, meno male che abbiamo la formazione, però ti puoi ritrovare di fronte a delle situazioni che non sei mai pronto. e spero che nessuno si dimentichi di loro. Quando succedono queste cose, queste max emergenze, nei primi giorni siamo tutti pronti, attivi, ma sicuramente non finisce in due giorni per loro là. Se ci fosse bisogno di dare una mano e ci fosse un'altra volta l'attivazione per poter tornare, io molto volentieri ci tornerei, ci torno. Sì, sì, sì. Se c'è bisogno ripartiamo assolutamente. Sì, sì, sì. Sì, sì.